Le città del futuro come saranno? Intelligenti, smart, tecnologiche, adattate ai bisogni delle persone, città più sostenibili, connesse e dinamiche, come Pisalo è stata in questi giorni in occasione dell'Internet Festival, un laboratorio vivace di idee, talenti, discussione aperta, online e offline. Così l'incontro conclusivo del Festival è dedicato proprio alle smart city, alle città trasformate dalla rivoluzione digitale e dall'innovazione. Non è solo un fatto di investire in queste infrastrutture, cosa che noi stiamo facendo, ma anche di costruire intorno un senso comune nell'uso e nel modo con cui anche le istituzioni devono imparare a muoversi in questi mondi. Le città future hanno opportunità, non le abbiamo ancora sfruttate, quindi io lavoro sempre sulle condizioni per poterci arrivare, nel senso che l'Information Technology ha cambiato radicalmente le regole del gioco, cioè ci dà la possibilità di connetterci, di condividere, di scambiare, di sapere, di vivere in un modo totalmente diverso rispetto al passato. E nel mio girovagare da esperto smart le più belle cose le trovo in una leva di giovani amministratori di piccoli e medi comuni, che colgono la straordinaria opportunità, forse hanno meno complessità di fronte, di Milano, di Genova e così via. Quindi l'idea è quella di una via italiana fatta di mille esperienze diverse alle smart city. Così se i piccoli centri sono quelli più adatti a recepire il bisogno di rinnovamento delle città, anche grazie a giovani amministratori che ben stanno interpretando il profondo mutamento della società, possiamo dire che anche tutta la Toscana sta ben rispondendo al cambiamento già in atto, ormai da tempo, in tutta Europa. Dal punto di vista delle infrastrutture noi abbiamo nel 2014, avremo nel 2014 per gli investimenti fatti, l'ultima tranche sono 40 milioni, qualcosa come la garanzia di una connessione di 7 megabyte per tutto il territorio regionale, che è una cosa già piuttosto importante, appunto unica nel panorama nazionale. E poi vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci dà Europa 2020 anche attraverso l'utilizzo dei nuovi fondi comunitari su cui siamo molto in anticipo e stiamo lavorando.